luce accese sotto un violento temporale per questa seconda triste del pomeriggio all'improvviso non la canzone del Napoli eh Obelix non corre numero dieci né rimangono in undisi né underjet al cinquanta per cento potrebbe far sua questa corsa scende nettamente di categoria mezzo meccanico in movimento allineamento che va a completarsi Ulmus arretrato numero due gli altri beni a rete arretratissimo tattoo via la macchina si lotta per il comando con Toronto a esse un altro cavallo dei trascorsi quasi classici che va facile al comando con allargo il cinque di usercaf tredici e nove il lancio viene a chiedere strada allargò anche Patriot l'inserimento lungo i birilli dei cavalli che partivano appunto lungo i birilli e cioè neanderjet passa dopo quattrocento ventinove e due e davanti alle tribune il buon panico pavesino ma Toronto chiaramente gli vada a fare subito un classico freeway cavalli dopo seicento metri di gara 44 e due fuori corsa Ulmus numero due sta passando Toronto è venuto via anche Ribes nero che poi sposta in terza ruota e Ribes punta in avanti mezzo miglio un minuto abbondante ma viene anticipato Ribes continua e va deciso su Toronto che deve nuovamente allungare chilometro bagnato in uno e quindici tondo tondo ma molto tondo si fa notare neanderjet ma va lì che affrontano la curva finale Toronto al comando inseguito da neander che non riesce ancora a scavalcare l'allievo di minucci quattordici cento nuventino e tre tre quarti di medio scappa via Tony Ang e il suo targata S Toronto retta d'arrivo al comando viene via la grande ancora De Filippo con Sevan Best ma lui parla un'altra lingua lui parla un'altra lingua viene bene anche Orocaf Toronto Sevan Best e per il terzo posto è ancora Neander che argina Orocaf uno cinquantanove tre uno quattordici e sei la classe non è acqua e nonostante un curriculum recente non proprio allettante quando la classe acqua si tira fuori la genologia e anche la guida e così chiacchiericcia la vittoria di Toronto a esse i colori della Bivans Bene Sevan Best per il terzo conservate i ticket perché c'è fotografia sotto la pioggia non si sa mai totalizzatore Toronto quattro euro in chiusura una vera manna per chi sapeva che stava quasi in condizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti